Incontri, messaggi criptati e viaggi segreti a Washington, in Colombia e Brasile, hanno preceduto per settimane l'autoproclamazione di Guaido a Presidente ad Interim del Venezuela. A rivelarlo, diversi funzionari antigovernativi venezuelani di altri paesi latinoamericani e statunitensi, sottolineato il ruolo chiave del governo canadese e di quello colombiano nell'offrire il proprio sostegno al leader dell'opposizione. Lo stesso Guaido ha poi confermato a Washington Post di aver incontrato spesso in quella fase senatori americani sostenitori del cambio di regime, sia democratici che repubblicani, fra cui Marco Rubio. Intanto, ieri, domenica 27 gennaio, Maduro ha annunciato che il Venezuela sta preparando la più importante esercitazione militare della sua storia, da svolgersi fra il 10 e il 15 febbraio. Alle Forze Armate, il Presidente ha chiesto massima unione, disciplina e coesione per sconfiggere il colpo di Stato. Ma da Washington arriva il video del colonnello José Luis Silva, addetto militare dell'ambasciata venezuelana di Washington, che riconosce Guaido come unico presidente legittimo e invita i fratelli nelle Forze Armate venezuelane a giurare fedeltà al nuovo leader. Propriamente Guaido offre l'amnistia ai militari disposti a passare dalla parte del popolo, distribuendo con ogni mezzo cartaceo, social, video, copia della legge che promette garanzie costituzionali a chi collaborerà a ripristino della democrazia. Intanto, Maduro ha rispinto all'ultimatum di europei e americani per nuove elezioni libere e credibili, forte del voto dell'OSA e del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dove 19 paesi su un totale di 35 hanno espresso la loro opposizione alla intromissione negli affari interni della nazione sudamericana, per favorire un processo di dialogo fra le parti. La seduta straordinaria era stata convocata su richiesta del segretario di Stato USA Mike Pompeo, mentre iniziano le manovre degli USA per bloccare l'impatio degli ingotti d'oro di Caracas. Londra ha rifiutato a Caracas il ritiro di 31 tonnellate d'oro, 14 delle quali consegnate alla Bank of England dalla Deutsche Bank, che le aveva avuti impegno quattro anni fa da Caracas, a garanzia di un prestito concesso con un contratto swap. Marshall Billingsley, del Dipartimento del Tesoro USA, ha dichiarato a sorpresa che all'inizio di ottobre il segretario Mucin ha incontrato i ministri delle finanze di Europa e Giappone, i governatori delle banche centrali e i responsabili dell'intelligence per definire un piano di azione comune contro Maduro. La Cina è già leader nel settore dell'intelligenza artificiale. Ad affermarlo sono 1.400 CEO delle più grandi aziende mondiali, riunitisi la scorsa settimana a Davos, Svizzera, per il consueto forum invernale. L'intelligenza artificiale è largamente utilizzata in un quarto delle aziende cinesi presenti al forum, ma solo nel 5% di quelle statunitensi. Secondo Yan Hua, presidente del Consiglio di Amministrazione di Huawei, l'intelligenza artificiale sarà quello che l'elettricità fu per la rivoluzione industriale. Ma, aggiunge, serve una stretta collaborazione tra esseri umani e macchine per favorire un progresso sostenibile. Di fronte alla leadership di Pechino nel settore, i politici occidentali mettono in campo misure discutibili. Domenica, il vicepresidente della Commissione europea, Andrew Sansip, ha invitato i paesi dell'Unione a valutare i rischi di una cooperazione con le imprese tecnologiche cinesi, ricordando una legge del 2017 che imporrebbe a tutte le organizzazioni e ai cittadini del celeste impero di fornire assistenza all'intelligence nazionale nelle sue indagini. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.